So I've been my life, I've been my life, I've been my life on you I've been my life, I've been my life, I've been my life on you La seconda azienda visitata dalla nostra classe La classe classe si trova nel territorio cremonese ed è l'allevamento Oscar Nolli azienda zootecnica che alleva 200 vacche circa di razza frisone italiana per la produzione di latte da conferire alla latteria soresinese per la produzione di grana padano e altri prodotti L'azienda presenta una nuova stalla con una sala di mongitura a pettine con 16 posti preceduta da un'ampia sala d'attesa per 80 capi La nuova stalla è stata costruita tenendo conto delle indicazioni legate al benessere animale è ampia, di grande altezza, circa 14 metri fasce per l'illuminazione naturale delle zone di passaggio e lampade speciali per l'illuminazione artificiale Il latte prodotto è di alta qualità, controllato e certificato Quali dimensioni ha l'azienda? L'azienda di circa 130 e 329 Abbiamo circa 200 vacche per il momento Grazie Cosa producete in questa azienda agricola? In questa azienda principalmente produciamo latte Quindi i prodotti agricoli, principalmente mais, erba medica e loietto che servono per l'alimentazione delle vacche da latte L'obiettivo però è produrre latte Quante persone lavorano in azienda? In azienda abbiamo per il momento due muggitori, due che lavorano in campagna, una a Ventizio e poi ci siamo noi della famiglia Quindi altre due persone Quali nuove tecnologie ha adottato in azienda? In azienda abbiamo sempre cercato di stare abbastanza aggiornati Abbiamo fatto questo ultimo investimento che è veramente importante Che non è soltanto una nuova stalla Ma è una stalla Proprio una nuova tecnologia Soprattutto dal punto di vista informatico C'è la sala in mongitura completamente informatizzata Quindi riusciamo a sapere di ogni vacca tutto quello che succede intanto che viene monta Se il latte che produce, in quanto tempo viene messo il latte Se può essere in calore, se può avere una mastite Se può avere un disturbo, un problema E questa è una tecnologia fondamentale, credo, adesso per poter produrre latte in un allevamento moderno Grazie Prego Grazie